Vai, dai il miglio di te, su! Vai, dai, 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 dai! Speriamo! Se ci arrendiamo! Divisa Swiss Epic è chi viene data a chi partecipa alla competizione e questa la metteremo qua nel secondo giorno? Potremmo mettere il secondo giorno, dai, sì! Che è tostico! Non c'è essere dura! Chissà! Non c'è essere dura, sì! Chissà! 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 Let's go! Quizà! S-Fire Flash. Oltre alle due divise già presentate, avremo diverse maglie Shimano S-Fire con noi, così come calzini, scarpe e pantaloncini. Sono stratosferici come compiettini. Numero 1. Colorazione grigia, stesso modello di prima, colorazione diversa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info E questo che colore è? Colore verdino Sudafrica. Verde Sudafrica. C'è all'oro quasi. C'è all'oro. Ok ragazzi, fatemi dire un paio di cose su questo abbigliamento. Ogni capo è eccezionalmente leggero, altamente traspiranti ad asciugatura rapida e sono perfetti per sostenere sforzi intensi e prolungati. Questa è la maglia maniche corte S-Fire Flash. Ha una vestibilità aerodinamica che riduce le pieghe. I materiali lisci sul retro migliorano l'aerodinamica e il raffreddamento. Le tasche posteriori sono di facile accesso. Questa è la Salopette Corta S-Fire Flash con dei gambali lunghi a tutta gamba. Anche in questo caso materiale aerodinamico eccesso. Ci sono dei tessuti complessivi sui fianchi della Salopette che migliorano la circolazione sanguigna e riducono l'affaticamento sulle lunghe percorrenze. Quindi andremo come dei fulmini. La parte posteriore è altamente traspirante e garantisce un eccellente plusso d'aria per rinfrescare velocemente il corpo e asciugare il sudore. Con noi abbiamo anche dei manicotti S-Fire e dei gambali a tre quarti. Questo invece è lo smanicato antivento. È idro-repellente per tutte le stagioni. Il tessuto è ultra elastico e avvolgente per una vestibilità aerodinamica. E poi avremo con noi la maglia termica a maniche lunghe sempre S-Fire. Come sempre il design è anatomico e aderente. E la struttura coste massimizza l'aerodinamicità e la termoregolazione. Ha anche tre tasche posteriori di facile accesso. Io faccio gli occhiali. Tu stai indietro io sto vai. Pronto? Via. Entriamo tutti noi col culo fuori. Prendiamo insieme. Cosa fare? Pronto? Divisa Swiss Epic. Ti viene donata a chi finisce la gara. In realtà a chi inizia? Eh? Nel pacco gara quando la inizia. Inizia sempre. Inizia sempre. Inizia sempre. Inizia sempre. Inizia sempre. Troppo stupido come ingresso. Inizia sempre. Impressione. Bgo. Bgo. Grazie a tutti